Sono a Catanzaro, io sono Andarco Pinto, dipartimento beat soccer e responsabile del marketing, sono anche il team manager della nostra nazionale del club Italia. Siamo al nostro quindicesimo anno, abbiamo anche organizzato eventi internazionali, principalmente con la FIFA World Cup e posso dire che quest'anno siamo arrivati veramente bene con l'ultimo progetto che collateralmente abbiamo fatto al beat soccer. Beat soccer è uno sport di grandi prestazioni, di grande fair play, di grande forza, di grande spettacolo, ma nel suo contesto abbiamo sempre pensato di fare dei progetti collaterali, dalla sostenibilità, lo stadio intelligente e l'alimentazione, la sana alimentazione. Partiamo quest'anno con il progetto La ricetta del campione, è un format molto interessante, i media stanno dedicando una grande risonanza su questo progetto, grandi partner, tra cui anche Farabella, che è sempre attenta alla corretta alimentazione dello sportivo e perché no, in questo caso anche abbiamo il prodotto senza grudine che sta riscodendo un ottimo successo. Sono tanti i calciatori qui di beat soccer che sono ciliaci e sicuramente farremo un progetto ancora più interessante sia con i ragazzi che fanno parte di questo campionato, sia con un'associazione per cercare di trovare un giusto connubio e Farabella di questo ne farà parte. Grazie.